Chi ha scoperto le piastrine? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un salto indietro nel tempo a Torino alla fine dell'Ottocento. Vi racconteremo in breve la vita di Giulio Bizzozzero. Giulio Bizzozzero è un protagonista della medicina italiana internazionale di fine ottocento. Nasce a Varese nel 1846 e muore a Torino prematuramente a soli 55 anni nel 1901. È considerato il padre dell'istologia italiana e a lui va il merito di scoperte scientifiche importantissime come quello delle piastrine. Si iscrive giovanissimo nel 1862 a soli 16 anni a medicina presso l'università di Pavia. Da subito si dedica all'attività di ricerca. Nel suo primo anno di frequenza universitaria Bizzozzero pubblica il suo primo lavoro scientifico. A partire dal 1864 pubblica diversi lavori sotto la guida del professore di patologia generale Paola Mantegazza che lo scopre e lo cattura. Il professore comprende da subito le sue grandi doti di osservatore dei preparati istologici e così il suo strumento indispensabile diventa il microscopio. Bizzozzero esegue esperimenti scientifici, osserva, disegna ed escrive ciò che vede. Nel 1866 a soli 20 anni si laurea in medicina a Pavia. A 21 anni insegna come supplente del professor Mantegazza patologia generale a Pavia. Crea da subito il suo primo gruppo di ricerca a cui partecipa anche Camillo Golgi che nel 1906 vincerà il premio Norbert per la medicina e la fisiologia per i suoi studi sul sistema nervoso. In quei primi anni di attività passa alcuni mesi all'estero presso i laboratori di scienziati famosi. Ad esempio si reca in Germania dal professor Rudolf Virchow, considerato il fondatore della patologia cellulare. Egli sosteneva che ogni cellula si origina da un'altra cellula e che non c'è malattia senza un'alterazione cellulare. Si tratta adesso di concetti veramente scontati, tuttavia all'epoca non lo erano affatto. Erano nuove idee rivoluzionarie, positiviste, cioè basate sulle scienze sperimentali, che si contrapponevano a quelle dei vitalisti, che ritenevano gli organismi viventi costituiti da una specie di fluido denso al cui interno agiva la forza vitale. A Pavia fa importanti scoperte, ad esempio scopre la funzione ematopoietica del midollo delle ossa, ovvero la capacità di questo a produrre globuli rossi. Diventa molto noto per questi studi e nel 1873, a soli 27 anni, vince la cattedra di patologia generale presso l'Università di Torino. Bizozzero inizia ad insegnare a Torino nell'anno accademico 1872-73. Tuttavia non trova un ambiente favorevole. Molti dei suoi colleghi sono diffidenti circa le novità che lui porta. Nei primi anni la sua ricerca si svolge in maniera precaria. Ottiene inizialmente nella vecchia sede dell'Istituto di Anatomia Umana, che si trovava allora presso l'ospedale San Giovanni Antica Sede, due stanzette risicate. Dopo un anno gli vengono tolte, ma lui non si sgomenta e trasforma una delle sue stanze di casa in laboratorio. Nel 1876 finalmente gli concedono quattro stanze presso il vecchio convento di San Francesco da Paola, in via Po 18, l'assegno per un assistente e per un inserviente, infine una dote annua dei mille dire, che erano poche e non bastavano neanche per pagare un microscopio. Presso l'Istituto di Patologia Generale conserviamo ancora il suo microscopio con relativa fattura per l'IRE 1677. A Torino pubblica numerosi articoli scientifici e continua a fare scoperte sensazionali, come quella delle piastrine, piccoli corpuscoli che si trovano nel sangue e che partecipano alla coagulazione. EDI pubblica due manuali molto letti sia dagli studenti che dai ricercatori di tutto il mondo. Inoltre inventa un piccolo apparecchio che serve per dosare in maniera più accurata l'emoglobina nel sangue, il cromocitometro. Tra il 1884 e l'85 è rettore dell'Università di Torino. Dopo lunga attesa è finalmente pronta la nuova sede per l'Istituto di Patologia Generale, quella di Corso Raffaello Trenta, al primo piano. L'edificio fa parte di quel nuovo complesso, la Città della Scienza, che si realizza fino a 800 sull'asse Corso Massimo d'Azzeglio via Petro Giuria. Dal 1894 nuovi spazi, nuovi laboratori, una nuova biblioteca, sono ora a disposizione per Pizzozzero e i suoi allievi. Progressivamente nella seconda fase della sua vita, egli si dedica sempre di più ad un'attività sociale, rivolta allo studio e al miglioramento delle condizioni igieniche di vita e di lavoro. Si occupa di malattie infettive, di vaccinazioni, di alcolismo, di dappurazione dell'acqua. Diventa membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione Pubblica, di Sanità, presidente della Società di Igiene. A Torino si impegna per la costituzione dei bagni pubblici e fu tra i sostenitori della costruzione dell'Amedeo di Savoia, un ospedale dedicato interamente alle malattie infettive. Nel 1890 viene eletto senatore. Tuttavia, vi è un'altra ragione che lo tiene lontano dal lavoro sperimentale, ovvero una fastidiosa infiammazione dell'occhio, che gli rende impossibile lo studio con il suo amato microscopio. Felice e Carolina Veratti erano i suoi genitori. La famiglia è agiata. Suo padre possedeva una rinomata industria per la fusione delle campane avarese. Se andate sui social troverete un sito dedicato alle campane bizzozzero. A Torino prima abita in Vianizza e poi in un villino vicino a Corso Raffaello, chiamato da tutti Palazzina Bizzozzero. Lì vive con la moglie, Erminia Brambilla, e i suoi due figli maschi, Enzo e Gino. Il figlio più piccolo, Gino, muore giovane a soli vent'anni. Il figlio più grande, Enzo, studia medicina e diventa direttore della clinica dermatologica torinese. come un fulmine a ciel sereno Giulio Bizzozzero si ammala di una polmonite e nel giro di una settimana, l'8 aprile del 1901, muore improvvisamente a soli 55 anni. Nell'androne di Corso Raffaello 30 è posta una lapide che lo ricorda. Nel primo anniversario della sua scomparsa la famiglia pubblica una raccolta di tutti gli interventi di giornalisti, colleghi, senatori, amici pronunciati in un'occasione della sua morte. Un agile volumetto si fa per dire di 398 pagine. Giulio Bizzozzero ci lascia i suoi numerosi studi scientifici, le sue scoperte, ma nel campo scientifico l'eredità più di rilievo e l'averci insegnato l'importanza del metodo sperimentale applicato alle patologie umane. Nel campo sociale e politico la sua lucidità di pensiero, la sua schiettezza, vibrano nelle sue frasi incredibilmente e tristemente attuali. Parlando a proposito delle buone pratiche igieniche inglesi per arginare la mortalità per malattie infettive, egli dice, se invece veniamo a considerare come si pratichi in simili casi in Italia, dobbiamo distinguere ciò che è prescritto si faccia da ciò che si fa realmente. La differenza tra quello e questo è grandissima ed è in buona parte imputabile alla nostra organizzazione sanitaria. Bizzozzero ritiene che sia necessario un intervento coordinato da parte dello Stato per prevenire le epidemie. Contribuisce alla promulgazione nel 1888 della legge Pagliani-Crispi, la legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, una importante riforma sanitaria che contribuisce all'attenuazione delle epidemie e all'aumento delle aspettative di vita. Grazie per averci ascoltato fino qui e noi speriamo che questa storia vi sia piaciuta.